è da molto tempo che non sento la signora di sopra del terzo piano signora signora come state bene 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 è da molto tempo che io vi cerco dove siete state in giro con gino no in giro avevo capito scusate va bene il caffè volete preso si no no il caffè volete bevuto bene bene e allora come sta tutto bene a proposito io sono stato anche io a roma eh sono stato a roma eh sono stato a roma ah buono eh che siete andato a fare eh sono andato a fare un servizio eh ma un servizio a Roma scusate no eh ma un servizio che cosa avete capito è un servizio di spettacolo avete capito fate il pagliaccio no un po' pagliaccio lo spettacolo signora ma ci sentite bene eh devo cambiare le mine eh giusto giusto va bene signora un abbraccio buon caffè e ci sentiamo appena che torno eh ci sentiamo dopo appena che torno eh arrivederci arrivederci salutarvi il vostro marito eh ciao ciao va bene ciao